ciao salve a tutti il punto suo euro dollaro con time frame daily lungo periodo candele giapponesi l'indicatore di velocità ciclica che ci aiuta a trovare i punti di svolta temporali e il momento allora il la fase di trend ribassista la conosciamo tutti siamo in un canale ribassista ancora ancora in atto evidente nonostante nelle ultime sessioni si siano avuti degli degli spunti rialzisti con questo uptrend un pullback è un nuovo possibile uptrend partito con peraltro un pattern morning star nelle ultime nelle ultime tre sessioni quindi per ora potrebbe essere possibile avere ancora una prosecuzione rialzista questo potrebbe dare in là a un movimento rialzista anche prolungato lo vediamo perché quando le fasi cicliche si sono sono partite seriamente con la rottura al rialzo della trigger line cioè della della linea dello zero si sono dei movimenti importanti sono state anche delle false rotture ma chiaramente ci andiamo noi a evidenziare poi quelli che sono gli spunti di analisi tecnica per avere conferma della rottura ecco che in questo caso un eventuale passaggio della velocità ciclica sopra a livello dello zero potrebbe essere accompagnata dalla rottura del canale rialzista e quindi avere uno spunto prolungato duraturo e probabilmente probabilmente anche anche confermato lo vediamo sostanzialmente nelle fasi in cui la rottura è stata confermata proprio con l'analisi tecnica di livelli importanti anche in questo caso rottura a rialzo della velocità ciclica e spunti rialzisti confermati dall'analisi tecnica e chiaramente tutto questo alle ribassista in analisi tecnica una figura evidente prolungata importante quindi la sua rottura coincidente col passaggio della velocità ciclica sopra a livello dello zero potrebbe essere un interessantissimo spunto per un posizionamento a rialzo su euro dollaro di medio lungo periodo da notare anche come le divergenze ci aiutino sia sulla velocità ciclica che sul momento ma adesso vedremo perché in questo caso su questo poi successivo movimento rialzista importantissimo abbiamo avuto delle divergenze molto molto chiare stesso è quello che sta avvenendo adesso quindi una divergenza chiarissima tra i minimi di prezzo e i minimi dell'indicatore ciclico e altrettanto interessante è avere la confronto lo vediamo proprio chiaramente come sia in atto una divergenza rialzista tra i minimi del momento e minimi di prezzo divergenza che quindi conferma anche la divergenza dell'indicatore ciclico in sostanza in soldoni per essere molto chiari la possibile rottura rialzo del canale rialzista quindi sopra 0 99 50 0 99 60 potrebbe dare la veramente a un movimento di grossa portata su euro dollaro quindi monitoriamo con assoluta attenzione il livello di 0 99 e 60 diciamo la cui rottura potrebbe confermarci essere in sintonia in sincronia con il passaggio della velocità ciclica sopra il livello dello 0 il momento invece lo vediamo già segnala un long essendo adesso appena sopra i 100 ma chiaramente è il prezzo che comanda il resto sono tutte derivate che utilizziamo per conferma e per il prezzo aspettiamo la rottura di 0 99 50 in ottica long di medio periodo un saluto a tutti e buon trading